E' un dato di fatto che sarà l'uomo ad adattarsi alle ergonomiche forme a mattonella degli smartphone. La selezione naturale farà il suo corso. Dita al rastrello, pollici a tenaglia ed avambracci ad asta avranno il sopravvento. Per gli sfortunati non ancora frutto della selezione e o evoluzione naturale non resta che ripiegare su un'asta a treppiede per selfie 3 in 1, con telecomando, tipo quella della Medion, distribuita da Eurospin a circa 8 euro. Abbastanza portatile ed utile in varie situazioni per mettere una maniglia, un treppiede, un'asta a seconda delle necessità e con l'aggiunta di un telecomando Bluetooth che in pratica alza semplicemente il volume che, se gestito dalla fotocamera ad esempio, può essere associato al comando di scatto. Tenere per fermo e posizionate anche senza mani può dare immediatamente allo smartphone una notevole usabilità e versatilità senza dover aspettare nuove ere di evoluzione umana. Buon prodotto per il prezzo ma ho dovuto serrare ulteriormente qualche snodo, un po' molliccio. Grazie! 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.